La risposta e l'interrogazione presentata è data il 17 ottobre 2014, protocollo 9832. Premessa, cerchiamo il diritto prima di rispondere ai due punti dell'interrogazione di fare carezza su quanto riportato nella promessa dell'interrogazione perché l'affermazione non è stata consentita di ascoltare, discutere, votare in linee programmatiche, non la riteniamo veritiera. Il sindaco nell'illustrazione del punto ha chiesto al Consiglio se riteneva di dover far leggere tutto o se il documento poteva essere dato per letto. Tutti i consiglieri, compresi quella della minoranza, con la risposta diamolo per letto, hanno implicitamente autorizzato il proseguo dell'esame dei punti dell'ordine del giorno. Riguardo all'attuazione dei contenuti del protocollo d'intesa sulla geotermia nel 2007, abbiamo sempre ribadito che un accordo sul quale si sarebbe potuto ottenere molto di più, pur riconoscendogli il merito di aver posto la base per una gestione unitaria della geotermia e dei rapporti enti-locali Enel. Questo è di stimolo per la verifica e controllo degli impegni della controparte, senza escludere la possibilità di richiedere ulteriori benefici a Enel, anche in accordo con gli altri comuni geotermici toscani, sottoscrittori del protocollo. Le tematiche in questione sono ben note al Sindaco, fin dalla precedente esperienza avuta con il Stato dell'Ambiente, presso il quale ha ben modo già di ripattere con i comitati ambientalisti e con osperti a livello locale e nazionale. In accordo con gli altri comuni geotermici, stiamo sollecitando la Regione a dar via in tempi brevi alla nuova indagine epidemiologica. Di seguito si danno risposte ai punti delle interrogazioni in oggetto. Nell'affermazione riguardo alla sicurezza ambientale e alla salute, il Sindaco faceva riferimento alle emissioni delle centrali prima dell'inserimento dei filtri AMIS e la valiziano che se la sicurezza ambientale fosse stata scelta, non ci sarebbe stato bisogno di inserire questi filtri. Inoltre, il Sindaco tendeva a dire che fino a quando c'è rimasta attiva la centrale PC2, la sicurezza ambientale non era garantita e le emissioni di quelle centrali potevano portare un documento alla salute. 2. Alla domanda se ci sono stati incontri con l'Arse e fino a che punto il dialogo si è spinto, si fa presente che i contatti sono frequenti e lo saranno ancora di più perché ormai prossimo è l'inizio del nuovo studio epidemiologico. Questa è retrollatata perché l'industria è stata fatta da molto tempo. Nel primo si è svolto il 30 settembre della Sette dell'Unione dei Comuni organizzato dall'amministrazione comunale di Pian Castagnaio alle quali hanno presenti i dirigenti Enel, i tre medici di famiglia di Pian Castagnaio, l'amministrazione comunale, l'Arse con il dottor Francesco Cipriani, e la dottoressa Mugolone e l'Arpati con il dottor Marco Pellegrini in videoconferenza. Il secondo a Firenze organizzato dall'assessore regionale Annalita Bramerini, il giorno 9 ottobre al quale hanno partecipato e rappresentato tutti i comuni geotermici della Toscana, l'Arpati con il dottor Pellegrini. Il terzo è in grado il 29 ottobre a Firenze per la Sette dell'Arse, organizzato dal dottor Cipriani al quale hanno stati invitati solamente sindaci dei comuni geotermici della Miata. In conto hanno avuto tutti lo stesso accetto, fare il punto della situazione riguardo agli studi epidemiologici e soprattutto organizzare l'ultimo step previsto nell'accordo generale sulla geotermia, cioè lo studio epidemiologico nei comuni geotermici della Miata. Il nuovo studio epidemiologico finanziato da Toscana partirà nei primi mesi del 2015. E questo è già un partito. Franco, mi sembra che tu puoi fare gli aggiornamenti perché ci sono stati altri incontri a Santa Fiora, no? Sì, in pratica c'è stati nuovi aggiornamenti e niente. La parte dell'Arse? Sì, sì, massimo entro un mese o due partirà proprio tutta l'indagine perché ci vorrà ancora un po' di tempo per l'assunzione delle tre persone che l'Arse dovrà fare per i tre anni. saranno quello che gli disse Cipriani sarà un infermiere o qualche tecnico esperto di medicina e di salute, un dottore e un esperto sulla comunicazione. Però per l'assunzione di questi dovranno fare un bando e per il bando c'è sempre i tempi tecnici di due mesi di pubblicazione del bando di gare e quindi la scelta poi dei tre candidati e quindi già due mesi fa al conto a Santa Fiora ci spiegò che dentro pochi giorni partiva questi bambi per la scelta dei tre che verranno assunti, quindi a brevissimo avranno fatto l'assunzione e quindi praticamente tutto. La serie sarà Santa Fiora, non mi è chiaro di passaggio, forse l'ho saltato in un passaggio. In pratica, viene fatto un unitato scientifico in cui partecipa a Arse, da parte della regione toscana. L'Arse sarà il capofila con Cipriani, poi ci sarà l'Albat, tutti i medici di base, di tutti i comuni geotermici che nomineranno fra di sé i loro rappresentanti e il sindaco e questa è la commissione scientifica. La sede di questo comitato scientifico è a Santa Fiora e i tre tecnici che verranno assunti avranno due sede a Santa Fiora, però gireranno in pratica continuamente per tutti i comuni geotermici, a fare tutti i richiedi, a tutte le interviste alla popolazione, i prelievi, avranno... no, in questo, scusate, c'è anche il discorso della partecipazione dell'ASGRA. C'è anche l'ASGRA. C'è anche l'ASGRA. E quindi i tecnici generano continuamente tutti i comuni geotermici. Manca dei tempi del banco? Manca ancora l'assunzione dei tre tecnici, però penso che ormai siano prossimi a fare la scelta che sia scaduti i tempi per la gara. Però ancora non ci hanno pubblicato la data in cui iniziano l'Aune, ma io penso che siano dentro un mese o due a questo punto. I tecnici sangue? C'è anche quanto tempo? Tre anni. Il progetto complessivo è di... pari a 400... no, 840 mila euro. Quindi è un progetto. C'è anche per le aree di sangue. Come? C'è anche... ci sarà anche per le aree di sangue. E ci saranno anche interviste ai familiari deceduti per dei motivi particolari, per andare a vedere la storia anche di quella persona. e quindi lo stile... lo stile di vita... vogliono andare insieme al medico di base, vogliono vedere lo stile di vita di quella persona per riuscire a capire la causa della cosa. Ma dove ne hai scatto in unaola storia di qualsiasi... Chi era? Ma che se diceva? Un'indagine progettiva, cioè con un'esercizio, le interpretazioni medica nei soggetti... Lo portare è che piano inserire su questo, da morire, ci si sono abbattuti fortemente e con la ramerina un discorso di medici di Fabriamo. Questa è stata la proposta dei comuni a Castagnaio, che non è l'inseritata, come l'apparato tecnico, ma abbiamo poteso che è stato inserito. Il verbo di base è importante perché siamo conosciuti in realtà, è un'esperienza di loro, ma è un verbo di base, si può dire come la patologia, c'è, 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 c'è. Sì, c'è, 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 c'è. C'è, 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 c'è. C'è, c'è, c'è. C'è, 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 c'è. C'è, c'è. C'è, c'è. C'è, c'è. C'è, c'è, c'è. C'è, c'è. 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 C'è.